Io sono arrivato! Oggi siamo in modalità ferrata Stiamo facendo la ferrata della Sardegna Non butto un del preide? Adesso non c'ho voglia Ok Grazie Questo deve essere il mito di una Vespa Vasaia Quelli che abbiamo visto prima I butun del preide Altri non erano che le fatte di Kamoshi Guarda che qua c'è la popolazione più bassa d'Europa di Kamoshi Guarda qua! È pazzesco! Andrea ha la sua prima volta Incredibile! Con che scioltezza! Già, vi attacca! Un po' chissà mi abbia a dare! E vabbiamo! Spavorare la libertà! Leie e i i suoi amici! See? Uffie! Sì? Servire la loro! C'è la prima volta! Che farò! C'è l'altra mia Quanta scioltezza tutte insieme! André a 5 minuti siamo arrivati! 5 minuti! Grazie per aver guardato il video! Nel video bisogna essere sempre velocissimi, molto entusiasti della vita, è troppo bello qui, adesso, oggi, la Sagresa Michele e la Ferrata, ciao!